Ciao, secondo libro per la nostra libreria yoga. Gli parliamo di Ayurveda con la cucina ayurvedica, il libro di Amedea Morningstar e Urmilla Desai. Che cos'è? È fondamentalmente un ricettario ayurvedico, però, però, è fatto, scritto da una nutrizionista americana, appunto Amedea Morningstar, che quindi ha preso le indicazioni della cucina ayurvedica e le ha rese fattibili e comprensibili anche, diciamo, da un pubblico occidentale, il che, diciamo, è molto utile per noi. Come è strutturato il libro? Allora, appunto, come vi dicevo, è un ricettario, quindi chiaramente ci sono delle ricette, però inizia con un'introduzione generale per capire che cos'è la ayurveda. La ayurveda è la medicina tradizionale indiana, però dà una base, un'introduzione storica per capire un po' meglio quando è nata la ayurveda, che è l'importanza di questa medicina, che poi è nata, diciamo, un po' persa, purtroppo, per vari eventi storici nel tempo. Spiega cosa fondamentale, che cosa sono i dosha e come capire qual è il nostro dosha predominante, capire nelle varie fasi, insomma, come possono cambiare, come possiamo aggravare la situazione del nostro dosha predominante. E poi, passando invece a quello che riguarda il cibo, parla dei gusti, parla delle qualità del cibo, ovviamente, secondo la ayurveda, quindi i gusti e quindi quali elementi sono presenti in tutti gli alimenti, come questi ci possono aiutare a mantenere la salute o a guarire un dosha aggravato. Oltre a questo, appunto, ci sono tantissime ricette, però la cosa interessante è che per ogni dosha ci sono degli esempi di menù, ovviamente con le ricette poi presenti nel libro, suddivisi per stagione anche, quindi, come sapete, bisogna mangiare differentemente a seconda delle stagioni e quindi da tutti questi esempi. Le ricette sono suddivise a seconda della tipologia, quindi ci sono, ad esempio, le zuppe, ci sono le cose che si possono mangiare per colazione, le bevande, insomma, differenziate, e anche, ad esempio, le verdure, la frutta, quindi è strutturato molto molto bene e poi è pieno di piccoli consigli, perché su, magari, alla fine di ogni ricetta c'è un piccolo consiglio specifico per quell'alimento. Perché mi è piaciuto questo libro? Ho trovato il consiglio di questo libro, beh, lo aveva, io ho la versione, questa qua è la versione in inglese, di John, l'ha consigliata lui, in italiano ha la copertina bianca, però è lo stesso libro. Questo libro è anche, lo trovate anche nella lista dei libri consigliati sul sito ayurveda.com Mi è piaciuto perché non sono una grande amante dei libri di ricette, perché non riesco a seguire le ricette, io devo fare, vado seguendo il gusto. La cosa interessante è che quello che spiega Amedeia Morningstar è che quello che abbiamo perso, che magari non abbiamo mai avuto così tanto nella cucina europea, è l'uso delle spezie, che invece sono fondamentali per l'ayurveda. Quindi un piatto, stiamo parlando di una cucina vegetariana, chiaramente, un piatto può cambiare, può essere più adatto a un doscia piuttosto che a un altro, grazie all'uso delle spezie. A un certo punto del libro, all'inizio, c'è tutta una pagina, questa è tutta una lista di spezie che lei consiglia di avere in casa, di base proprio, no? Sono tutte cose trovabili, non c'è niente di spaziale, sono molte. Quello che è interessante è che, è ovvio che se preparate da mangiare solo per voi, potete magari selezionare quelle che sono più adatte al vostro doscia, se in famiglia magari appunto cucinate per altre persone, potete averle, non dovete per forza averle tutte, ecco, quindi potete selezionare quelle che capite che nel libro fanno bene per voi. E la cosa interessante è che le ricette non sono niente di ultra difficile, con costosissimi ingredienti o chissà che, sono tutte cose molto basiche, che poi ovviamente si possono adattare, perché le dà degli esempi e poi ovviamente si possono adattare. Quindi l'ho trovato molto pratico, l'unica cosa forse che è un po' strana, è che per alcune ricette le quantità vengono date tipo per 6-8 persone, o a volte per 8-10 persone, solitamente per quanto riguarda la preparazione del riso, delle zuppe, quindi magari sono cose che potete insomma poi tenere da parte e mangiare il giorno dopo, ecco. A parte questo, un libro decisamente molto molto interessante, alla fine del libro c'è tutto delle appendici con degli schemini che riassumono per ogni doscia gli alimenti che fanno bene o che insomma sanno da evitare. Ah, un'ultima cosa interessante è che per ogni ricetta viene indicato che doscia migliora, che doscia aggrava o quello che rimane indifferente, la stagione anche, quindi insomma il tempo di preparazione è quello abbastanza classico, però insomma dà delle indicazioni che quindi anche sfogliando velocemente il libro, una volta che si è capito in generale quale sono le regole della Ayurveda, si può poi insomma consultare rapidamente. Non è facile, non è facile applicare e seguire bene le regole della Ayurveda perché sono molto complesse, è per questo che secondo me è un libro da leggere, da studiare, da cercare poco per volta di applicare nella nostra dieta, nella vita di tutti i giorni. Bene, questo era il libro di questo mese, preparerò il prossimo video per continuare con la nostra libreria yoga. Noi ci vediamo la settimana prossima, ciao!